Catalogna, Corte nega rilascio Junqueras, ANSA, Roma, 5 gennaio la Corte Suprema Spagnola ha respinto la richiesta di rilascio dell'ex vicepresidente. Catalano Oriol Junqueras, la Camera d'Appello dell'Alta Corte, scrive Il Quotidiano e Il Mundo nel suo sito online, ha confermato la decisione del giudice istruttore di mantenere l'ex vicepresidente della Generalitat in detenzione provvisoria. All'unanimità i tre magistrati sostengono che vi sono indicazioni che ha commesso crimini di ribellione, sedizione e appropriazione in debita e che esiste un rischio significativo di reiterazione criminale. Aggiunge la stessa fonte.